Sono Angelo Turco, continuiamo dunque. Questo è il terzo video del modulo 2 che considera la diapositiva numero 3, a sua volta intitolata Considerazioni in itinere 2. Come vedete Covid-19 si dice è un virus sconosciuto, è sconosciuto sul piano biologico, è sconosciuto sul piano eziologico, è sconosciuto sul piano epidemiologico. Stiamo imparando a conoscerlo sia appunto su questi tre piani che ho menzionato e sia per quanto riguarda gli effetti che ha come pandemia sulla società. Questo implica che anche considerando la complessità del cluster problematico, la crisi nel suo insieme diventa tre cose importanti particolarmente interrelate e che generano feedback continui tra l'una e l'altra. Dunque da una parte stiamo imparando, ho detto, e dunque si tratta, la crisi diventa una fabbrica di informazioni, dati, conoscenze, novità e quant'altro. La crisi diventa un corpo mediale che potremmo dire in un modo il più semplice possibile che si tratta di una consistenza del reale con cui noi finiamo con l'avere a che fare, qualunque cosa pensiamo, o qualunque cosa facciamo viene intermediata in qualche modo dalla crisi. Un corpo mediale. La crisi accelera, distorce, potenzia la nostra capacità di comprensione del reale e anche la capacità di comprensione che noi abbiamo di noi stessi. Quindi la nostra auto-osservazione. Infine, importantissimo, la crisi diventa un ambiente di apprendimento, intanto perché è un corpo mediale, per l'appunto, con cui volente o nolente veniamo ad impattare. E quindi ci siamo dentro, è come una specie di liquido amniotico nel quale nuotiamo, navighiamo, svolazziamo, e in parte un ambiente di apprendimento perché è una fabbrica di informazioni. Quindi noi, per quanto abbiamo bisogno di spiegare la crisi in ciascuno dei suoi cluster problematici e nel suo insieme, tuttavia noi dobbiamo essere coscienti che noi spieghiamo la crisi apprendendo dalla crisi. L'apprendimento è un processo continuo e quindi nel momento stesso in cui costruiamo una lettura, costruiamo un'interpretazione, facciamo un'ipotesi e, come abbiamo detto nel modulo precedente, secondo il modello popperiano, la sviluppiamo per arrivare da qualche parte, ecco, impariamo qualcosa di nuovo da questo ambiente di apprendimento che rimette tutto in discussione, a volte con risultati, diciamo così, di modesta entità, per quanto riguarda l'impianto complessivo dell'interpretazione, a volte con risultati molto innovativi che ci impongono di rivedere tutto l'impianto dell'interpretazione e degli atti conseguenti. Ricordiamoci che nella crisi tipicamente ci veniamo a trovare di fronte ad una situazione non di scienza normale in cui le acquisizioni successive sono additive, ma ci troviamo di fronte ad un contesto di scienza rivoluzionaria in cui quello che si apprende non è spesso additivo.